bentornati sul nostro canale per quelli che non mi conoscono mi chiamo thomas sono un tecnico di risonanza magnetica e faccio parte del gruppo i am amr tech alcuni di voi ci hanno chiesto di parlare di angiografia senza mezzo di contrasto ebbene eccoci qua se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccando qui iniziamo gli effetti time of light anche detti toff possono determinare sia un incremento che una diminuzione dell'intensità del segnale nel caso ci sia un incremento del segnale si parla di flow related enhancement ed è provocato dall'entrata di protoni freschi e non saturati nel volume di acquisizione durante la lettura del segnale nel caso invece sia presente una diminuzione del segnale si parla di flow void phenomenon che troviamo quando la lettura del segnale avviene nel momento in cui i protoni nel volume di acquisizione sono saturati per quanto riguarda le sequenze angiografiche chiamate toff viene sfruttato sempre l'effetto di flow related enhancement per la visualizzazione di flussi veloci come il flusso dovuto al sangue arterioso vengono utilizzate le sequenze toff 3d il principale utilizzo di queste sequenze risiede nell'angiografia del circolo intracranico dalle quali possiamo ricavare delle ottime immagini del poligono di willis e molti dei vasi arteriosi encefalici senza l'utilizzo di mezzo di contrasto l'erevata risoluzione spaziale di questa tecnica ci permette di acquisire voxel sub millimetrici che risultano essere ottimali per lo studio arterioso dell'encefalo inoltre l'utilizzo di voxel isotropici ci permette di poter ricostruire le immagini su tutti e tre i piani per leggere il segnale proveniente solo dal sangue arterioso è necessario porre una banda di saturazione superiormente rispetto al pacchetto di acquisizione che satura tutti gli spin dei protoni presenti nel sangue venoso la sequenza utilizzata è una gradient eco rapid acquisition feed imaging ottimizzata con alcune accortezze proprio per questo scopo il tr deve essere il più basso concesso dall'apparecchiatura in modo che gli spin statici vengano saturati e che diano segnale solamente gli spin in movimento il te deve essere basso e meglio se in opposizione di fase per avere un miglior abbattimento del tessuto adiposo il flip angolo ottimale compreso far 20 e 30 la banda di saturazione deve essere solidale con il pacchetto di acquisizione quindi deve muoversi e posizionarsi immediatamente sopra lo slab che sta per essere acquisito in quel momento un'implementazione avanzata può essere quella del variable flip angle il flip angle varia il suo grado durante l'acquisizione per fare in modo che gli spin nei vasi più distali quindi quelli che ricevono più impulsi non vengono saturati completamente e che diano segnale la saturazione del grasso tramite tecnica cash o cash inversion recovery e la saturazione dell'acqua legata tramite magnetization transfer contrast possono essere utilizzate per una miglior visualizzazione dei piccoli vasi a meno che non aumentino troppo il tr gli artefatti tipici delle toff 3d sono essenzialmente due flow saturation e venetian blind il flow saturation consiste in un abbassamento del segnale del sangue nei vasi più distali del volume di acquisizione perché gli spin hanno ricevuto una moltitudine di impulsi e quindi vanno in contrasaturazione per eliminarlo possiamo utilizzare la tecnica del variable flip angle descritta in precedenza il venetian blind invece consiste in una variazione di intensità del segnale nelle zone di sovrapposizione dello slab per eliminarlo è necessario aumentare la sovrapposizione appunto degli slab per quanto riguarda invece l'acquisizione toff 2d viene utilizzata per lo studio dei flussi lenti quindi a livello encefalico la utilizziamo per lo studio del circolo venoso la banda di saturazione in questo caso deve essere posizionati immediatamente sotto al pacchetto di acquisizione in modo che il sangue arterioso venga saturato completamente e che non fornisca segnale così come per le toff 3d la sequenza utilizzata è una gradient eco rapid acquisition feed imaging il tr anche in questo caso deve essere basso in modo che gli spin statici vengono saturati e il t è meglio che sia in opposizione di fase in modo che ci sia un abbattimento del segnale di posa la banda di saturazione viene posta sotto al pacchetto di acquisizione il grande svantaggio di questa tecnica è la bassa risoluzione spaziale infatti essendo una 2d non viene acquisita con voxel isotropico e di conseguenza le ricostruzioni di tre piani non risultano ottimali anche in questo caso possiamo trovarci di fronte a due artefatti tipici stair step e saturazione in plane lo stair step si riconosce come un aspetto a pixel delle ricostruzioni mip e può essere ridotto con un aumento di overlap tra le fette con la conseguenza di un aumento notevole del tempo di acquisizione la saturazione in plane invece si riconosce come un abbassamento del segnale del sangue nei vasi con andamento parallelo allo strato di acquisizione per questo motivo il buon posizionamento del pacchetto risulta essere essenziale per una buona qualità dell'immagine esso infatti deve essere il più perpendicolare possibili ai vasi che dobbiamo studiare bene è tutto per oggi spero che il video vi sia piaciuto usate questi consigli nel modo più utile per voi non dimenticate di mettere like e di attivare le notifiche del canale e seguirci sugli altri social alla prossima